Oggi ragazzi avevo due scelte, o mettere a posto camera mia oppure fare questo video E da quello che state guardando ragazzi ho deciso di mettere a posto camera mia Scusate, datemi giusto due secondi Ok ragazzi, ho finito, adesso va molto meglio In questo video ragazzi andrò a vedere quale personaggio degli anime sono E devo finire a dire ragazzi ogni due per tre, va bene ragazzi? Cavolo! Ho trovato questo sito dove ci sono un sacco di cose che si possono, un sacco di quiz Ma non solo di anime, ma anche di videogiochi, di film e tv, Stati Uniti, Discovery, un altro Un sacco di cose molto interessanti Ma oggi andrò a fare quelle in stile anime E da come ho visto prima ho dato un'occhiata a c'è anche il mio anime preferito Direi di iniziare con quello di High School DXD Allora, sei bloccato su un'isola e puoi mangiare solo un cibo Quale scegli? Cosa c'entra con quale personaggio di High School DXD6? Vabbè comunque Soffrirò e non mangio nulla, no? La sabbia mi sazierà, diventare un erbivore e mangiare le foglie Vivrei di noci di cocco Allora, piuttosto che diventare erbivore e mangiare le foglie Mamma, la sabbia Se mangio la sabbia direi che posso spervivere massimo 5 minuti Soffrirò e non mangio nulla Vabbè, cioè 3 casi su 4 alla fine morirei Una persona più o meno quanto può rimanere senza cibo? Mi sembra due settimane senza cibo né acqua Forse una, non mi ricordo Comunque andrei sulle noci di cocco Qual è la tua peggior qualità? Sono troppo egoista Non rischio nulla Non riesco ad accettare le critiche degli altri Niente, sono perfetto I miei desideri si impossessano di me facilmente Sono molto goloso Probabilmente sono la persona più pigra che conosca Guarda, molto probabilmente sono la persona più pigra che conosca Se potessi essere uno dei seguenti personaggi Quale scegli? Sarei un diavolo che non vorrebbe fare sfogo ai propri desideri Rimarrei umano Sarei un angelo Sarei un angelo caduto Odi uscire dall'aperto Quindi sarei sicuramente un vampiro Dare sfogo ai miei desideri Non mi dispiacerebbe Cioè, che fai? Te ne privi? Scarlett Johansson Sto arrivando Sono ancora qui Cavolo Ti consideri una persona morale? E sto distingue facilmente ciò che è giusto Da ciò che è sbagliato Dipende Tutto si basa sulle percezioni del mondo In cui percepisci qualcosa Lasciamo stare l'ultima Che è una grandissima Io andrei più che altro sulla seconda Che è l'unica che ha un po' di senso Rispetto agli altri due Forse anche questa ha un po' di senso Ma la seconda Ne ha molto di più Allora, qual è la tua miglior qualità? Il mio ingegno supera tutti quelli che mi circondano Devo essere la mia forza E sicuramente la mia bellezza E la mia natura premurosa Guarda, io personalmente le segnerei tutte Ma non posso Quindi ragazzi Vi dico ovviamente la mia bellezza Cioè Guardate qua I'm your man Cioè, se scendessi di qualche chietto Sero ancora più baci Ma guardatemi Cioè, sono stupendo Cioè Tanto Lo vedo che c'è lei La mia bellezza Va Che tipo di amico sei? Sono fedele ai miei amici Non ho amici Sono amico competitivo Sono amico davvero solidale Guarda, qui dovrei chiamare amici e chiedere Ma io credo di essere un amico fedele Descrivi la tua vita sentimentale Non c'è aggiungerezione? Va Non chiedere, va Quale parola ti descrive meglio? Sexy Timido Gentile Fastidioso Tutte Ma io andrei sulla mia miglior qualità Ovvero sexy I'm your man No, no Gentile Cosa faresti se i tuoi amici fossero vittime di bullismo? Ma queste domande Cosa c'entra effettivamente con iDiscordixt? Scusate Guarda, conoscendomi Conoscendo il mio lato protettivo Cioè io farei tutto per amici Chiamate qualcuno Se avete qualche problema di bullismo E non andate mai alle mani Mi raccomando Perché passare le mani Non è mai la scelta giusta Cosa faresti in un combattimento? Io non combatterei Ci sono altri modi per risolvere le cose Oltre alla violenza Mi riderebbero in faccia Pensavo davvero di potermi battere Combatterei fino alla fine Lo scapperei E risultare più sicuro Allora Non so se voglio rispondere Perché sicuramente darei un cattivo esempio Eh scusate Mi ero imbambato con La roba di sopra Qua è la domanda Questa qui Non so cosa ho messo però Se fosse nel mondo di IDiscordixt Di quali poteri vorresti? Il potere di creare e manipolare Le illusioni Il potere di basare Solo la luce Ok solamente gli angeli Gli altri ci hanno E potere di controllare Il flusso della vita Essere immortale per sempre Più o meno O creare illusioni E mie immagini E somiglianza Qual è il colore più adatto A te? Biondo Nero Rosso Sangue Argento Marrone Boh Non ne ho idea Ragazzi vado subito Con il feto Il rosso E ragazzi Sono Rias Gremory Sono una donna Ok Non sono una donna Rias Gremory Sei come Rias Sei gentile E compassionevole Proprio come Rias Tratti Ti circonda Con quita e amore Hai una visione Ottimista di tutto Credi che ci sia Un lato positivo In ogni cosa E che ci sia Sempre una luce Alla fine del tunnel Perché significa Che perseveri sempre Verso i tuoi obiettivi Rifiutando di rinunciare I tuoi speranze I tuoi sogni E perversando Alla tua determinazione Perseverando Non ci vedo Senza occhiari Perseverando Alla tua determinazione Male Che c***o Sono i miei occhiari L'altro canto La tua gentilezza Viene annullata Quando qualcuno Parla contro di te Con intenzioni malevolo Se qualcuno Vosa fare del male A te O ai tuoi cari Il razzocinio Salta fuori Alla finestra E non esiterai A usare violenza Contro di loro Però io non volevo Essere Riescheremo Io Riescheremo Li voglio fare Comunque bene Sono Riescheremo Non mi dispiace Andiamo avanti Ci sono altri quiz Che possiamo fare qui Tipo Giu-Giu-Cai Non l'ho mai visto Hunter Hunter Neanche Death Note Ho visto qualcosina Non molto Vai attacco dei giganti Inizio per il quiz I tuoi amici Sono in pericolo Perché un titano Li ha messi alle strette Cosa fai? Cercherai di uccidere il gigante Fuggerei via Non posso aiutarli Urlerei forte Per distrarre il titano Minirei a loro Nella loro morte Allora Fuggire io direi di no Unirmi a loro Un minimo ci proverei Urlerei più forte Per distrarre il gigante Dubito che funzionerebbe Io andrei su Cercherai di uccidere il gigante Qual è il mio gruppo Ma io che c***o Non so qual è il mio gruppo sanguigno Un momento Ah ma Qual è il mio gruppo sanguigno? Ok Niente Non ne ho idea E non posso neanche saltare la domanda Quindi Andrei su A B Non ne ho idea Boh Qual è di questi ti piace di più? Musica Letteratura Le persone Cibo Cibo Cosa farei se incontrassi per la prima volta Un titano senza sapere cosa fosse Guarda Vorrei fare una amicizia con i giganti Di attacco on titans La vedo molto dura Correrei per la mia vita Anche quella vedrai dura Perché loro corrono molto veloci Farei del mio meglio per sconfiggerlo Eh no No Se ho un dispositivo tridimensionale Di manovra tridimensionale No 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 Non saprei manco com'è C***o Che c***o Domanda è scusa Ovviamente mi nasconderei Troverei un piano Qualità Cattivistica Odi di più Nelle altre persone Allora molto probabilmente Lealtà Lealtà E disonestà Uno delle due Quali di queste cose Da tua forza trainante Avventura Speranza Divertimento Vendetta Protezione Divertimento Qual è il modo migliore Per affrontare un giganto Sto erere le mura Non ho ne idea Se è una taverna E Che c***o c'è scritto E c'è una varietà di piatti Che puoi ordinare Che cosa decidi Patate al burro Un piatto lontano Chiamato pizza Qua pizza Non c'è neanche bisogno Di leggere gli altri Andare sulla pizza I toni che sono considerati Tradizionali Femminini Maschili O Adrogeni Parli o Principalmente Mi travesto da spider Però potrebbe farlo Anche una ragazza O qualunque Qualunque altra cosa Voglia dire androgeni Quindi Non posso dirlo Cioè metterei Un po' Tutto Come ti piacciono I tuoi eroi Eroi normali E ragazzi Stavolta Siamo Mikasa Ackerman Sei Mikasa Ackerman Sei molto Stoico Equilibrato E hai molto Controllo Delle tue emozioni Una volta Una persona Allegra ed estroversa Sei divertente Emotivamente chiuso Ma tieni Profondamente I tuoi amici E la tua famiglia Anche se non lo dimostri Spesso Questi quiz Cominciano a farmi Veramente paura Che c'ha ragione Eh Ok Cazzo Questo Io ragazzi In questo periodo Sto guardando Shameless E sarei molto Curioso di fare Questo Non è un anime La serie tv Però Dai sì No aspetta Non lo so Sare curioso Facciamo così Se volete A quelli delle serie tv Scrivetelo Qui sotto nei commenti Per adesso Andiamo solamente Con gli anime E andiamo Di censo Ma almeno Questo l'ho visto Cosa temo di più Perete e fallimento Rifiuto di critiche Essere controllato E imitato Forse un po' tutte Boh Essere No Non lo so Perete e fallimento Forse questo Non ho idea La violenza è necessaria Si può essere usata Solo in circostanze Estreme Cioè Dipendere Che dipenda un po' Dalla situazione Sì Può stare come Oddio Non lo so Sono un po' Indicioso Solo in circostanze No Dipende Io direi che dipenda Un po' Dalla situazione Cosa mi motiva di più Denaro e potere Come ti ne scriveresti Beh io metterei Sono concentrato E determinato Su alcune cose Cioè In altre sono timide In altre sono indipendente Liberi In altre cioè Sono tutte varie caratteristiche Che poveri Quasi si persona Che cavolo ne so io Come gestisci La pressione E lo stress Calma e concentrazione Cosa apprezzi Che cavolo Ok Cosa apprezzi Di più della vita Esplorare Famiglia Amici Ti è stato assegnato Un compito difficile Che non pensi Di poter svolgere Cosa fai Mi arrendo E me ne vado via Accetto la sfida E lavoro solo Per avere successo Inquadro il problema E trovo una soluzione Recreativa Chiedo aiuto E collaboro con gli altri Guarda Accetto la sfida E lavoro solo Per avere successo È successo In passo più che altro Al lavoro Ho accetto la sfida L'ho fatto Ok All'inizio magari Ho fallito Però andando avanti Facendo constatamente Sono riuscito Adesso quel lavoro Lo faccio praticamente Perfetto Come si gestisce Il fallimento Beh dipende Dalla situazione Se è colpa mia Ovviamente È la colpa A me stesso Però Lì bisogna Vedere un attimo Dalla situazione Ti punto la pistola A testa E ti dico Di ballare Cosa fai Ballo ovviamente Guardo le persone Con la pistola Puntata contro di me Sperando che Si spaventi Cazzo Ma io ballo Non c'è neanche bisogno Di leggere gli altri Non so C'è chi non ballerebbe Con la pistola Puntata Sua tempia Il tipo di animale Domestico Sei un cane Un gatto Un pesce Un cane Un pollo Un pistola Ma il caniano Voglio di uscire Io no Forse Forse un gatto Si cago Piscio Dormo tutto il giorno Non è quella cosa Che faccio lavoro Quindi direi che Sono come il mio gatto Siamo quasi alla fine Ragazzi Allora Sei un individuo Estremamente debole Ti viene data La portata Di cambiare la tua vita Ma Questo comporta Un rischio Cosa faresti Se sei debo E ti è una grande occasione Di cambiare la vita Ci penserei Si trovi contro Un'orda di zombie Si sta avvicendo Rapidamente A te Cosa fai Io non mi ci vedo A combattere con i zombie Anche perché È una mossa sbagliata Boom Ti sei uno zombie Anche tu Analizzo la situazione Trovo una mo Senti io scappo Non c'è niente a dire Cosa mi si deve fare Io scapperei Cioè a combattere Non ci penso neanche Piango Non mi sembra L'opzione giusta Perché mi schiatterei Analizzare la situazione Direi che non c'è tempo Poi vabbè Se sono i classici zombie Che doppicano Invece di correre Allora ci sta Ma se sono tipo I zombie di World War Z Allora lì Anche no E alla fine Sono Denji Mi sembra che Stiamo uscendo Per saggi Un po' troppo Importanti Nel loro anni Sai come Denji Come Denji Sei una persona Determinata e coraggiata Che non ha paura Di agire Più o meno Sei estremamente fedele A coloro Che sono importanti Per te Sei disposta A lottare per loro Questo è vero Ha un forte senso Da giustizia Una personalità Focosa E lavorerai duramente Per raggiungere I tuoi obiettivi Sei anche più Di risorse E creatività In grado di Trovare soluzioni innovative A problemi difficili Anche questo Più o meno O comunque ragazzi Se poi vuoi fare anche quiz Qui c'è il pulsante Ripeti quiz Che stereotipo Di personaggio Anime sei Perché no Qualcuno ti confesse Il tumore Cosa fai È un evento quotidiano Lo lascerei fare Però se per te È un evento quotidiano Con le tue azioni Stringimi calorosamente La mano Che risposte sono Queste scusa Se allora È il cattivo Sono il cattivo Io sono il caos Il mondo Conoscere il dolore Io sono La giustizia Sono l'eroe Se io sono La rendita Sono l'oppy Io sono Barman Per finire Essere l'eroe Anche se è il cattivo È molto figo Però preferisco L'eroe Mi scrivi il tuo migliore amico Li odio Una volta Erano i miei amici Ora sono Miei amici Sono tutto ciò che io Grazie al potere Della amicizia Sconfiggiamo Il signore Di Damone Beh Questa dai Questa Apparesemente Finisci Gli anime E il manga L'anime è molto meglio Mi piacciono entrambi Il manga è molto meglio Allora devo dire che Non lo preferisco Gli anime Anche perché Se metti poi Questa qui Cioè io Come posso scegliere gli altri Però di recente Ho iniziato anche a leggere High School Dixie E sto aspettando Anche se mai uscirà Il manga di The one time Girlfriend I really 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 Love you E poi mi piacerebbe Ricoprare anche Qualcos'altro Però io direi entrambi Quanto sei intelligente? Neanche un po' Non lo so Cioè più che altro A questa domanda Non risponderei In nessun dei modi Poi il mio rivale è stupido Quindi questo mi rende più intelligente Non lo so Non ho poteri Beh in realtà No Non ho poteri Qual è il tuo momento preferito? L'albero Il tramonto Il mezzogiorno O la notte? Guarda io premisco la notte Così mi rilasso Non c'è nessuno Che mi rompe le scato E io posso guardare gli anime Cosa aspetti un anime? Torta Adoro la torta Le scene romantiche La scena di combattimento La trama Ragazzi ovviamente Io guardo la trama E un anime Certo Un'altra cosa Che se ne prega Sei innamorato Che fai? Eh questo è un colpo al cuore Colpisco Ripetutamente Mi accotta Con armi pericolose Che potrebbero Ucciderla Scappo L'amore Fa paura Lo confesso Qual è la cosa peggiore Che potrebbe accadere? Ecco io eviterei la prima Giusto per iniziare Oddio però qui Andiamo su pesante Io sono single Da tutta la vita Non ho mai avuto Una relazione Non ho mai avuto Una relazione L'unica volta Che ci ho fatto Con una ragazza Gli ho scritto Tipo un ciao Dopo tipo tre mesi fa E da quello che so Ora è lesbica Quindi se faccio Questo effetto Dei ragazzi Io direi che Scappo via Cosa fai nel tempo libero? Uccido la divinità Per divertimento Mangio la torta Ma ci sono fissate Queste torte Me ne vado in giro Senza fare nulla di nonna Do la caccia ai miei Ai miei nemici Faccio video su youtube Travestito da spider man Però questa opzione Non c'è Quindi direi Un cibo di divinità Per divertimento Qual è il tuo genere Prefitto di anime? Orrore Azioni Isekai romantico Qui non c'è scritto Il mio genere Prefitto di anime Ma Mettiamo Isekai Ti consideri Il personaggio principale O un personaggio secondario? Il mondo già intorno a me Ovviamente Sono il personaggio principale Ovvio Qual è il tuo cibo per vittore? Piuttosto mettimi nella barra Che scrivo io Cosa mi piace mangiare No? Cioè Da sto punto Scengo la torta Se devo preferire Mangiare La mia cotta Che tra l'altro no Oppure l'altro no Ma preferisco la torta I tuoi amici I tuoi amici sono stati catturati Dal signore dei demoni Cosa faresti? Li lascerai lì Uccidoti Leipaticamente I signori dei demoni E i miei amici Sono al sicuro Non importa Quante volte Perderò Continuerò a combattere I signori dei demoni Per il bene dei miei amici Sono un cazzo di cetriolo Quanti anni ho? Ne ho dai 18 ai 24 Protagonista stupido Di uno shunen Sei come il protagonista Stupido di uno shunen Rumoroso e antipatico Ma com'è antipatico? È davvero un anime shunen Se il personaggio principale Non è rumoroso Stupido Ottimista Un po' fastidioso I protagonisti di questo shunen Hanno di solito Un obiettivo a lungo termine Si prefinguono fin da giovane Determinati e accurati Nel mondo che li circonda Si impegnano contro ogni difficoltà E lotta che incontra I loro nemici potrebbero essere Centinaia di volte più forti di loro Ma non perderanno mai la speranza Una cosa che questi ragazzi Sembrano avere in comune Che non si arrenderanno Ma Ah beh Pensavo peggio Cioè mi scrivi Protagonista stupido Di uno shunen Cioè uno cosa può pensare Scusa Qui abbiamo dei esempi Neruto Ah Deku Asta E Goku Ragazzi sono Goku Basta A proposito di Goku C'è anche quello di Dragon Ball Quello da qualche parte Ok ragazzi Ho trovato anche quello di Dragon Ball Qual è la tua peggiore stranezza Sono totalmente inaffidabile Sono un po' perverti Mi arrabbio molto velocemente La mia testa è sempre tra le nuvole Quindi non posso mentire Perché il mio migliore amico Appena vede sta parte Mi scriverebbe Che ho mentito E va bene Quali sono i tuoi animali preferiti Tartaruga Il cioccolato è un animale Gatti Che hai Non sopporto gli animali Tutti i tipi di insetti Uccelli Draghi Anche se non esibili Cazzo i draghi Io ho un drago domestico qui Che tipo di persona di Dragon Ball Vorresti essere Qualcuno molto passivo Un duro Personaggio divertente Allegro Una strana creatura Personaggio divertente Allegro Cavolo Di affrontare qualcuno Che non puoi battere Cosa fai Arrenderti Ma la salva La vita Di tuoi amici Combattere contro loro Mettere Io direi Arrenditi Ma salva Almeno la vita Di tuoi amici Cos'è meglio Essere felici Essere famosi Essere ricchi Tutto E niente Essere felici Voi felici combattere Da solo Con i miei amici Sono pacifista Non combatto Allora Non voglio mettere In pericolo gli amici Quindi combattere da solo Iscrivi il tuo gruppo Di amici Un grande gruppo Di buoni amici Alcuni amici Intimi Un migliore amico Alcuni amici intimi Si sono rinviato A un barbico Cosa porti Mais Molte proteine Sotto forma di carne Sono abbastanza bravo A prepararmi in salata Fanculo Devo con la pancia vuota E scrocchi i miei amici Discriverebbero gli amici Peggero Cioè non Li conosco Mi darebbero Certamente Li pigro Hai scoperto un nemico Cosa fareste con loro Cerco di fare amicizia con loro Torturarli Uccidi Di sparire E non Di sparire Non farci più vedere Qualcosa cerca di flertare con te Cosa fai davvero Wow Beh sarebbe impossibile Visto che è un evento conico Quindi se io mi fidanzo Il nostro universo Viene letteralmente distrutto Cioè nessuno flerterebbe mai con me Cosa preferiresti Essere cattivo Il bravo ragazzo Non voglio essere convolto In alcun modo Non voglio essere coinvolto In alcun modo Dove sta scritto Quello è un problema mio Cosa desideresti Se avessi tutte e sette Le sfere del drago Un sacco di soldi Vorrei Risuscitare qualcuno Mutandine Mi renderei immortale Per lo scorso di fita Di cibo e dolciomi Risuscitare qualcuno Ok ragazzi Ultima domanda Fino a che punto Ti spiegheresti Per raggiungere i tuoi obiettivi Non lo so Solo un po' Probabilmente non fare nulla Non ho obiettivi nella vita Mi farei il culo Let's go Sono Goku Il tour del tatu È Goku Goku è il protagonista Principale Di l'intera franchise Ha un cuore gentile Ma è anche Noioso E un po' egoista Per la maggior parte Del tempo Non vuole Non vuole essere un bravo ragazzo E salvare il mondo Ma vuole solo combattere I mici sempre più forti Goku ama le sfide Aspetta Non è che io sia proprio come Goku Ma sono dettagli Se questo dice che sono Goku Vuol dire che sono Goku Quindi Andiamo a fare l'ultimo quiz Questo Quale Pokémon Sei in base A tua personalità Noi ci divertiamo adesso Inizia il quiz Quante domande Ci sono 10 domande Bene Scegli un posto Dove stare No no Qui Non lo so Forse qui Quale genere di musica Preferisci Classico Ok Rock Meta Tecno Hip Forse hip hop Cosa pensi che faccio I Pokémon Nel loro Pokémon Si rilassano tutto il giorno Con quale tipo di Pokémon Verresti catturato Una Pokémon Sono solo molto casuale Che ragazzi sono un mostro Quindi la Master Ball No forse è un po' esagerato Adesso sicuramente Mi metterà un leggendario Cosa che mi piace Vuole essere un bambino Un adolescente O un adulto Cazzo un bambino Cristo Cioè Ma vuoi mettere Di quando la tua vita Ti dà gli limoni Tu Crea una limonata Lancio contro i tuoi nemici Mangia Non capisco la domanda Lancio contro i miei nemici Ovviamente Come lo catturo Un YouTube Senza avergli dato primo un limone Vuole la sottostruzione di combattimento Con il Pikachu Fa molta impressione Cosa ti rende speciale La mia capacità di adattamento La mia stanchezza La mia carneria La mia malvagità La mia forza La mia eleganza La mia cazzo di forza Cristo Da solo perché C'è il reach sopra Quale parola suona meglio Bizzarro Apocalittico Bumblebee Clan di squisito Ipnosi Bumblebee Ok ragazzi Siamo all'ultima domanda Scegli cosa mangiare La carne Cioè veramente L'insalata E i dolci Preferire la carne Ok Vediamo adesso Quale Pokémon Sono Slowpoke Sono serio Sei un pensatore lento In altre parole Sei stupido Ma piaci comunque Le persone Perché sei sempre pronta A realizzare E nulla ti abbatte Questo mi ha appena abbattuto Cioè non solo Mi ha dato dello Slowpoke Mi ha poi dato dello stupido E poi chi c***o Cattura uno Slowpoke Con la Master Ball Scusa Cioè io una volta Ho catturato Un Rhino In Pokémon Giallo Con la Master Ball Solamente perché Avevo mischiccato Dopo due ore di gioco Ho dovuto spegnere Se niente salvare Per recuperare la Master Ball E mi sono dovuto Rigioccarelle Due ore di gioco Ma fattile a fancù Beh ragazzi Direi che questo quiz Può anche terminare qui Devo dire che è molto divertente Ragazzi Se volete provarli Anche voi Vi lascio il link Qui sotto In descrizione Sono rimasto molto perplesso Per l'ultima Cioè mi ha dato veramente Non solo dello Slowpoke Ma anche dello stupido Però almeno abbiamo visto Che questi quiz Non sono truccati Perché se dovevo scegliere Un Pokémon Prima di tutto Non avrei scelto Slowpoke Avrei scelto altro Pokémon Charizard Raiquaza Raikou Sono quelli I Pokémon preferiti Non Slowpoke Comunque vabbè Almeno sono Goku Cazzo Comunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Qui ci sono un sacco Gli altri quiz Tra quelli supereroi TTV Film E tanto altro Se volete altri quiz ragazzi Mi raccomando vi spolliciate Iscrivetevi a questo Nei commenti E vabbè Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi Con il video di questo video Mi dicevi un bel commento E ci vediamo I prossimi giorni Con un prossimo video Quando i vostri amici Con il spider In YouTube Tutto Bella raga Slowpoke Slowpoke Tra tutti I mille Pokémon Che esistono Al mondo Mi dai Slowpoke Vatti la famiglia Flash is fast Flash is cool Francois Zappa Flash ain't no dude And you don't stop Shusha Go out To The parking lot And you get in your car And you drive real far And you drive real far